Ora basta, il declino non è un destino, è una scelta. Liberiamo l'energia, liberiamo l'Italia. Sul palco della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, il presidente Giorgia Meloni. Grazie a tutti. Buon pomeriggio, fratelli patrioti. Grazie per essere qui, grazie per aver risposto con entusiasmo numerosi alla chiamata per la celebrazione della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Un grazie sincero lo voglio rivolgere anche alle tantissime personalità che oggi sono venute a seguire i nostri lavori, che dimostrano attenzione, curiosità, interesse per questo nostro progetto politico. Non è comune organizzare un momento programmatico mentre intorno tutto cambia e infatti siamo stati gli unici a farlo. Per due ragioni. In primo luogo perché, come si sa, a noi piace sfidare le convenzioni. Ci piace sperimentare territori nei quali gli altri non si inerpicano. In fondo anche questo è un tratto distintivo di quello che siamo. Come lo scorso Natale, durante la pandemia, siamo stati i primi a tornare in piazza con una grande manifestazione di popolo, che era Treiu. Così adesso, nel bel mezzo di una tempesta, vogliamo essere i primi a indicare la rotta. Perché, vedete, noi oggi siamo qui per ribadire le idee chiare con le quali intendiamo attraversare la burrasca che ha spazzato via le certezze di molti, ma non le nostre. E il messaggio che vogliamo dare con questa conferenza programmatica è che ci faremo trovare pronti. Ci faremo trovare pronti con proposte serie e con le persone giuste al posto giusto. Per questo siamo venuti qui a Milano, nella capitale produttiva della nazione, per raccontare quelle proposte. E anche, diciamoci la verità, per rispondere a questa accusa che ci viene continuamente formulata di non avere una classe dirigente adeguata a governare la nazione, certo è un'accusa che noi sappiamo essere ridicola, che dovrebbe esserlo per la verità anche per gli altri, ma veramente nell'Italia che ha affrontato la più grande pandemia con speranza alla salute e che si trova in mezzo a una guerra con Di Maio agli esteri, il problema della classe dirigente ce l'ha Fratelli d'Italia. Scusatemi se dissento, ma non abbiamo problemi a rispondere, risponderemo ovviamente anche in queste tre giorni, mostrando ancora una volta i nostri uomini, le nostre donne che sono persone capaci, competenti, sincere. Ma vogliamo farlo e lo facciamo anche invitando in questa conferenza molte autorevoli personalità che non fanno parte di Fratelli d'Italia, alcune proprio non vengono dalla storia di Fratelli d'Italia, dalla nostra storia, e che noi siamo pronti a coinvolgere per dare a questa nazione la proposta più seria possibile. e li voglio ringraziare perché sono davvero tantissime le autorevoli personalità che hanno accettato il nostro invito, che animeranno queste tre giorni. Noi dobbiamo questa serietà all'Italia, perché vedete questa nazione ha pagato un prezzo altissimo all'improvvisazione e nell'epoca in particolare, nell'epoca delle grandi incertezze, ebbè non te la cavi con i giochi di prestigio, non te la cavi con i like sui social, non te la cavi con gli slogan a effetto. L'unico antidoto all'imprevisto è la visione, e la visione è un terreno che la destra italiana, figlia del realismo politico, conosce molto bene. Allora vedete, non abbiamo la pretesa in questi giorni di esaurire tutto il lavoro, il percorso durerà mesi, quello che vogliamo fare qui, in questa conferenza programmatica, è definire il contorno, partendo dal titolo di questa conferenza, Italia e energie da liberare. Italia e energie da liberare non è solo una suggestione, è la trama del nostro programma di viaggio. L'Italia è una nazione bloccata, che ha un disperato bisogno di liberare la sua energia, e però, come diceva il video che avete visto, il declino non è un destino. Il declino è una scelta. Il declino si può invertire, ed è esattamente quello che abbiamo in mente di fare, e vi garantisco che se riusciremo in quello che abbiamo in mente di fare, beh, noi trasformeremo quest'epoca infame in un nuovo risorgimento italiano. Liberare in energia significa dire basta all'incapacità strategica che hanno avuto gli ultimi governi. Si dice, significa dire basta a quell'approccio ideologico che tiene l'Italia in ostaggio, e che ha finito per trasformarla dalla patria del fare al paese dei no. Significiamo che avere il coraggio di dire che di qui in avanti tutto quello che in Italia è necessario fare va fatto. E abbiamo sviluppato intorno a questa cornice tre grandi parole d'ordine. Libertà, indipendenza, crescita. La libertà bussa prepotentemente alla nostra porta. Lo vediamo con un popolo in lotta per non cedere un mattone di quella libertà. Però lo vediamo anche qui da noi, nelle nostre società, dove di emergenza in emergenza i diritti dei cittadini sono andati sempre più comprimendosi, elargiti come fossero una concessione del nuovo Leviatà. Il secondo imperativo è indipendenza, un tema che sommessamente noi poniamo da circa 30 anni e che non può più essere eluso, perché la realtà troppo evidente è che la globalizzazione senza regole ha fallito e ci ha reso tutti molto più deboli. Il terzo punto è la crescita, che per noi coniuga ovviamente lavoro, responsabilità delle imprese, diritti sociali delle persone, in una catena nella quale gli ultimi non vengono abbandonati e della quale il perno rimane la famiglia, l'energia che tutto genera. Però crescere vuol dire anche diventare grandi. E allora vedete, il senso di quel crescere per me è anche un altro. Ed è questo. Se noi vogliamo che l'Italia torni a essere una grande nazione, allora siamo noi italiani a dover crescere. Ah, ecco il senso del lavoro che stiamo facendo. Di tutto questo cercheremo di parlare in questi giorni, in questa relazione, che non sarà breve, vi annuncio. Cercherò di fornire qualche spunto ad aggiungere a quello dei tavoli di lavoro e a quelli che ovviamente andranno avanti fino a domenica. Partendo da questo tema, vedete, io credo che questo sia soprattutto il tempo di un necessario ritorno al reale. Come scriveva non a caso un conservatore, Gustav Thibon, il filosofo contadino, praticamente un secolo fa. Noi, è come se venissimo da una sorta di narcotizzazione collettiva con la quale negli ultimi decenni le elite globaliste hanno imposto i loro deliri ideologici pensando che alla fine la realtà si sarebbe conformata ai loro desideri. Solo che la realtà non la puoi piegare. La realtà alla fine si impone sempre. E infatti il combinato disposto tra due crisi che non erano attese, la pandemia e la guerra, in un battibaleno ha spazzato via il castello di sabbia delle utopie globaliste. Purtroppo era inevitabile perché pretendere di cancellare l'identità, la famiglia, le tradizioni, pretendere di trasformare l'uomo in una specie di automa senza anima era una follia. Ed era inevitabile che prima o poi la vera natura dell'uomo si sarebbe ribellata e sarebbe tornata prepotente, forte, improvvisa. Esattamente quello che sta accadendo, che accade in Italia, che accade in Europa, che accade nell'intero occidente, dove si alza sempre più forte il vento della libertà e dell'identità. E noi siamo pronti. Siamo pronti a ricostruire questa nazione sulle macerie di quella globalizzazione fallita. E la ricostruiremo seria, forte, libera, rispettata, produttiva. Ma la ricostruiremo alla sua altezza. È un compito difficile, certo, non voglio dire che sia facile, però è anche un compito per chi ha testa, cuore, per chi ha coraggio, per chi ha i piedi per terra. È un compito da patrioti. Allora, siamo pronti perché vedete, il campo del reale è invece proprio il campo dei conservatori. Il conservatore è un freno all'utopia e agli utopisti, che si innamorano di cose e idee mai sperimentate, che quando si realizzano si dimostrano ben diverse da come erano state immaginate. Lo scriveva uno dei padri del conservatorismo italiano, Giuseppe Prezzolini. Ora vedete, questo è il nostro tempo, perché aver scelto ieri di non negare la realtà ci consente oggi di avere le idee molto chiare su cosa vada fatto. Perché molte delle critiche che noi abbiamo mosso in questi anni oggi sono le risposte da dare. E partendo proprio dal tema della globalizzazione, guardatevi intorno. Cari cantori del libero commercio senza regole, eravate convinti che far valere su tutto gli interessi economici avrebbe portato un naturale riequilibrio della ricchezza e avrebbe piano piano fatto maturare l'intero pianeta sul piano dei diritti e della democrazia e che pian piano tutti i sistemi, dalle autocrazie alle dittature, avrebbero somigliato più al nostro. E invece è accaduto l'esatto contrario. I regimi si sono rafforzati, le democrazie si sono indeboliti. Siamo noi che oggi rischiamo di somigliare più agli altri. E leggo anche con una punta di amarezza, voglio dirlo in questo contesto attuale, quegli osservatori che si lamentano perché l'Italia dipende troppo sul piano dell'approvvigionamento energetico da un'autocrazia come quella di Putin. Perché, signori, la domanda è, ma dove eravate? Dove eravate quando Fratelli d'Italia denunciava il cinismo con cui l'Occidente gestiva diversi rapporti con diversi stati liberali? Dove eravate quando dicevamo che la transizione ecologica fatta così ci avrebbe portato a legarci mani e piedi con la Cina? Dove eravate quando contestavamo gli accordi di cooperazione universitaria con le monarchie fondamentaliste del Golfo? Dove eravate quando dicevamo no all'ingresso della Turchia di Erdogan in Europa? E oggi bisogna fare i conti con la realtà perché la realtà è che in questi 30 anni di ubriacatura le ricchezze si sono concentrate verso l'alto. Le autocrazie hanno guadagnato campo nel mondo. E la colpa principale ce l'ha l'Occidente. La colpa principale ce l'ha un Occidente che ha rinunciato alla propria anima, che ha negato la sua identità, che ha svenduto i suoi valori al miglior offerente. E noi che lo denunciamo da tempo lo abbiamo fatto proprio perché non si arrivasse a questo. E anche qui, guardate, voglio essere chiara, noi lo abbiamo sempre denunciato, ma per noi la risposta a una decadenza che denunciamo nelle società occidentali non è mai la simpatia per le autarchie. Per noi la risposta alla decadenza delle società occidentali è restituire a quelle società i valori dei quali sono state private perché noi vogliamo salvare questa civiltà che è la nostra e che amiamo. E anche per questo non abbiamo esitato a schierarci nel conflitto in atto. Abbiamo condannato immediatamente l'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo fatto quello che andava fatto per tentare di porvi fine. Era una scelta naturale la nostra. Eppure anche stavolta si è fatto un gran discutere. Alcuni osservatori l'hanno raccontata come una svolta. A lui gli piacciono le svolte, sono gli appassionati di svolte. E forse però questi osservatori dovrebbero osservare meglio perché se avessero osservato saprebbero che più o meno dalla fine degli anni 40 la destra italiana non ha mai messo in discussione la collocazione dell'Italia nel campo occidentale e il suo sistema alleanza. Qualcun altro ha detto che era una scelta di comodo che noi facevamo per compiacere le cancellerie internazionali. E voglio spiegare che un patriota sul piano della politica estera muove sempre e solo partendo dalla difesa dell'interesse nazionale italiano. Loro sono così abituati a essere dei servi che cercano i padroni pure per gli altri. Ma noi padroni non ne abbiamo! Mettetevelo in testa! Non abbiamo padroni! Non li avremo mai! Il popolo italiano è l'unico padrone che abbiamo! Mettetevelo in testa! E anche tra le nostre fila però c'è stata qualche critica. Forse perché dalle nostre parti si è talmente diffidenti verso il mainstream che si tende ad avere automaticamente la posizione contrapposta. Forse perché appunto di fronte a una certa debolezza dell'Occidente d'essa interesse chi magari si dimostra deciso. Sono critiche che rispetto voglio dirlo in parte le capisco però voglio dire anche che non le condivido. Perché quel maledetto 24 febbraio giorno dell'invasione russa all'Ucraina ha cambiato tutto. Quella invasione segna un punto di non ritorno e certo si potrebbe discutere tanto si potrebbe discutere della strategia dei dem americani di riproporre un clima da guerra fredda in un momento nel quale piuttosto c'era bisogno di cercare una pace secolare con la Russia per combattere insieme la minaccia del fondamentalismo islamico per non consegnarlo nelle braccia della Cina si potrebbe discutere dell'assenza delle istituzioni europee si potrebbe discutere la questione del Donbass il percorso che ha fatto l'Ucraina si può discutere di tutto ma ora sarebbero discussioni che stanno nel passato perché che ci piacciono adesso in Ucraina si decide anche il nostro futuro e questo è importante che lo si capisca vedete non solamente perché l'Ucraina è più vicina a noi di quanto possa sembrare fin dei conti dista dall'Italia meno di quanto noi qui siamo distanti da Lecce ma per come incide sui nostri equilibri in primo luogo in Europa dove noi sembriamo dimenticare che fino a 30 anni fa la metà degli stati europei viveva praticamente sotto il regime sovietico noi ci stupiamo del coraggio con cui gli ucraini si difendono ma non è sorprendente che chi ha conosciuto il gioco comunista combatta oggi per difendere una libertà che noi invece diamo per scontata non è sorprendente che chi rischia di perdere una patria sia disposto a combattere per quella patria mi sono interrogata sulla storia di quelle madri che hanno messo i loro figli in salvo nei corridoi umanitari e poi sono tornata indietro a combattere e a morire mi sono detta perché scegli di far probabilmente crescere tuo figlio orfano e poi ho capito perché la patria è la prima delle madri per questo noi la chiamiamo madre patria e se quei bambini non ne avranno più una beh saranno comunque orfani e lo saranno tutti ecco perché sono tornata indietro e questo un patriota lo capisce questo noi lo capiamo è normale e naturale per noi come è purtroppo scontato che non lo capisca certa parte della sinistra che dice che gli ucraini si devono arrendere non mi stupisce non mi stupisce che lo dicano le sardine gli allegri sventolatori di bandiera arcobaleno i centri sociali lampi di oggi che come dice Carlo Panella è diventato una specie di rifugio un peccatorum dei falliti dell'estrema sinistra non mi stupisce che lo dica chi non crede nella parola patria e la guerra incide sui nostri equilibri soprattutto a livello globale perché vedete l'Ucraina è la punta dell'iceberg di un conflitto che ha come obiettivo un nuovo assetto mondiale e se l'Ucraina capitolasse il vero vincitore domani non sarebbe tanto la Russia di Putin ma la Cina capital comunista di Xi Jinping l'Occidente verrebbe fortemente ridimensionato anche con diciamo conseguenze economiche importanti e all'interno dell'Occidente chi è più debole cioè l'Europa finirebbe probabilmente in posizione di subordinazione alla Cina e beh io non voglio finire sotto la Cina comunista amici miei non ci voglio finire non lo considero un grande futuro e quindi queste sono le ragioni delle nostre scelte che abbiamo tentato di spiegare ragioni che nulla hanno a che fare col tornaconto e se mi consentite anche ragioni un tantino meno semplicistiche di scegliere tra la pace e un condizionatore da riacceso insomma perché uno si aspetterebbe valutazioni migliori e però se la libertà è così importante e allora permettetemi di dire che avevamo ragione perché non è che possiamo non vedere l'ipocrisia di un occidente che mentre ha la pretesa di esportare la democrazia finge di non vedere che al suo interno i diritti delle persone diminuiscono e si assiste a una diciamo continua lenta inesorabile diciamo costruzione di una deriva sinistramente illiberale lo dicevamo prima a maggior ragione va detto adesso perché guardatevi intorno diritti che noi davamo per acquisiti acquisiti non sono più il diritto di voto viene continuamente mortificato da governi che passano sulla testa dei cittadini per applicare programmi che nessuno ha letto e votato la libertà di opinione viene continuamente compressa con la scusa delle fake news che però vengono certificate come tali da agenzie pagate dal governo e dagli oligarchi della Silicon Valley con i loro algoritmi che si permettono di censurare anche rappresentanti eletti dal popolo il diritto alla proprietà privata viene continuamente messo in discussione come quando la commissione europea di recente ci ha spiegato che potevamo vendere le nostre case solo se avevano una determinata classe energetica il diritto alla privacy ne vogliamo parlare un ricordo con la scusa di tracciare il contagio di combattere l'evasione fiscale è stato direttamente sostituito dal grande fratello e con il covid l'esperimento sociale ha fatto un salto di qualità il diritto di lavorare per andare da mangiare ai propri figli viene garantito solo con un lasciapassare del governo e guardate che è un provvedimento pesante pesante mi stupisce che la sinistra non si accorga di quanto è un principio pesante e infatti nessun'altra nazione del mondo ha pensato di risolvere il problema così il diritto all'educazione ai nostri figli è stato tolto da una classe politica di incapaci che non avevano soluzioni migliori da dare di comprare centinaia di milioni di banchi e rotelle da mandare direttamente al macero il diritto allo sport e alla socializzazione viene impedito a ragazzini di 12 anni privati di attività che sicuramente hanno un beneficio nel loro sviluppo se non hanno un vaccino sulla cui efficacia per quella fascia d'età la comunità scientifica non è ancora d'accordo ma guardate perfino sul diritto di manifestare anche il diritto di manifestare è stato garantito o negato sulla base di chi manifestava pare che il covid preferisse aggirarsi nelle manifestazioni contro il governo e che invece si tenesse alla larga da quelle della sinistra e del resto come dargli torto si dirà ma noi dovevamo combattere la pandemia certo noi dovevamo combattere la pandemia e dovevamo garantire un altro diritto fondamentale che è il diritto alla salute la domanda che sto facendo è un'altra la domanda che sto facendo è era necessario arrivare a questo o piuttosto il covid è stato considerato anche una diciamo così una occasione per costringere le persone a piegarsi a scelte in altrimenti inaccettabili e come sempre mi assumo la responsabilità di quello che dico perché noi abbiamo dimostrato che si poteva fare diversamente e non ci sono scuse che tengano che cosa si poteva fare? beh in parte ve l'ha detto Francesco Acquaroli quando è intervenuto prima di me si potevano tenere le scuole aperte dotando le classi di ventilazione meccanica controllata che abbatte il rischio di contagio dell'82,5% e forse lo stesso strumento si poteva usare sui mezzi di trasporto negli uffici pubblici sui luoghi di lavoro nelle palestre nei ristoranti e chi più ne ha più ne mette si poteva portare avanti la campagna vaccinale con un'informazione seria puntuale non con la coercizione puntando sulla responsabilità non sulla paura come hanno fatto molte nazioni che hanno dati di vaccinazione migliori dei nostri e che magari hanno più rispetto dei cittadini a cui si rivolgono si potevano immaginare protocolli seri regole certe si poteva concentrare la ricerca italiana la ricerca italiana su una cura al covid studiare terapie domiciliari sensate invece di criminalizzare chiunque tentasse di dare una mano come Giuseppe De Donno una brava persona che il cinismo del mainstream ha condotto all'amor si sarebbero potute fare le cose giuste invece di fare quelle facili ma la verità è che in questi anni la nostra libertà e l'esistenza stessa di migliaia di aziende italiane non sono stati sacrificati all'evidenza scientifica sono stati sacrificati all'incompetenza di una classe politica che ha pensato che a un virus cinese si dovesse rispondere con un modello cinese di società mascherina QR code in repressione del dissenso tutto condito da Giuseppe Conte che ti arriva il sabato sera in televisione alle 8 a Redi Unificate e ti comunica quali siano i tuoi diritti se permettete non credo che questo fosse il modo serio di affrontare questa questione allora vedete ritorno al reale significa anche che non accetteremo più proprietimenti insensati è ora di dire basta all'emergenza eterna è ora di tornare al rispetto delle regole e se la politica vuole privarci di qualcosa beh deve prima dimostrarci che il beneficio sarà maggiore della rinuncia se la politica vuole chiedere sacrifici beh deve prima dimostrare di essere disposta da farli se la politica chiede che i cittadini siano responsabili deve prima dimostrare di essere responsabile perché perché alla fine la forma più efficace di educazione è l'esempio ma vi siete chiesti perché l'Italia è l'unica nazione al mondo nella quale vige il detto fatta la legge ha trovato l'inganno vi siete chiesti perché in questa nazione fregare le istituzioni è una pratica socialmente accettata perché l'impressione è che le istituzioni siano le prime a volerti fregare e allora la naturale reazione è un braccio di ferro in cui le energie vengono spese per contrapporsi e non per marciare nella stessa direzione signori dei salotti si lamentano stupiti della disaffezione dei cittadini verso la cosa pubblica è però è colpa loro è colpa di una classe dirigente asserragliata nel palazzo per non dover guardare quello che c'è fuori e affrontarlo è colpa delle loro priorità surreali delle loro regole che cambiano a seconda di chi viene giudicato dei loro governi che pretendono molto e non danno niente è colpa di quella presunzione con la quale sentenziano continuamente sul popolo che è serio e responsabile quando si piega ai loro diktat ma diviene immediatamente analfabeta e impresentabile quando si permette di contraddirli è colpa loro e vedete questo ma siete oggi e vedete questo non è solo un male che affligge le istituzioni italiane è anche un male che affligge le istituzioni europee e qui ovviamente adesso tutti diranno che le critiche che noi rivolgiamo all'Unione Europea sono figli di un approccio anti-europeista è l'esatto contrario noi rivolgiamo le critiche che rivolgiamo all'Unione Europea perché questa Unione Europea ha mortificato l'ideale d'Europa e ha ridotto la civiltà che è stata a faro nel mondo a un semplice lumicino e non è che lo dico io lo dice la storia l'Europa si è presentata all'appuntamento con la storia senza una politica estera senza una difesa quasi totalmente dipendente sul piano energetico e delle materie prime con catene di approvvigionamento troppo lunghe in parte delocalizzate impreparata alla gestione della crisi umanitaria incapace di svolgere qualsiasi azione diplomatica però in compenso noi sapevamo tutto di inclusione gender biografia di Greta Thunberg e di come cancellare il Natale per non offendere gli islamici ora il problema è sbagliano quelli che si permettono di segnalare che c'è un piccolo problema o sbagliano quelli che fanno finta di niente perché io penso che sbagliano quelli che fanno finta di niente qualcosa proprio non sta funzionando no? e però voglio dire anche questo se anche le sue priorità non fossero state così lunari l'Europa nella crisi nel conflitto ucraino avrebbe davvero potuto giocare un altro ruolo la risposta è no non avrebbe potuto farlo perché come dicevamo non ha una politica estera però siccome io le cose impopolari sono abituate a dirle e quindi le dico sempre non avrebbe potuto svolgere un altro ruolo anche perché praticamente nessuna delle nazioni europee rispetta l'impegno preso con la Nato di investire il 2% del suo prodotto interno lordo in difesa il che significa banalmente il che significa banalmente che l'Europa ha deciso di farsi difendere dagli Stati Uniti e però quando chiedi a un altro di difenderti devi sapere che quell'altro giustamente non lo farà gratis la famosa ingerenza americana della quale tanti si lamentano e non è mica un'imposizione degli americani è una scelta europea ed è una scelta sbagliata perché se noi siamo convinti che chiaramente il destino dell'Occidente nel suo complesso è indissolubilmente legato beh siamo altrettanto convinti che non sempre da una sponda all'altra dell'Atlantico gli interessi sono perfettamente sovrapponibili e allora capite bene che in questo noi siamo molto più europeisti di tanti soloni di Bruxelles per questo da sempre rivendichiamo la necessità che la Nato sia dotata di due colonne una americana e una europea pari dignità pari ruolo e per questo fratelli d'Italia in tempi non sospetti perché come dicevo le cose impopolari quando sono giuste vanno dette in tempi non sospetti cioè dall'inizio della sua esistenza fratelli d'Italia ha nel programma l'aumento delle spese militari e sapete perché? perché quello che noi spendiamo in difesa è il prezzo della nostra libertà è il costo che ha riuscire a difendere i nostri interessi a livello internazionale noi sappiamo che la deterrenza della forza militare è la più efficace delle diplomazie e sappiamo signori mi dispiace che vogliamo essere alleati non sudditi ma essere alleati e non sudditi ha un costo e però voglio dire anche un'altra cosa su questo diciamo macro tema voglio dire che con la stessa fermezza con la quale noi abbiamo invitato il governo italiano a dimostrarsi leale con i suoi alleati e beh oggi vogliamo chiedere ai nostri alleati di dimostrarsi solidali con l'Italia perché parliamoci chiaro in questa crisi c'è chi pagherà di più c'è chi pagherà di meno c'è perfino chi potrebbe guadagnarci e allora noi continuiamo a chiedere con forza un fondo di compensazione per le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni e crediamo che a quel fondo debba partecipare l'Occidente nel suo complesso perché sarò franca anche qui beh non mi sta bene sentir dire al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che le sanzioni saranno devastanti ma avranno un impatto minimo sugli americani beh qui da noi Presidente Biden l'impatto sarà massimo e allora è il caso che ci si distribuiscano oneri e onori perché non faremo i muli da Soma dell'Occidente e ancora ma poteva questa Europa presentarsi davvero pronta di fronte alla crisi umanitaria in atto no non poteva non poteva perché la menzogna immigrazionista di aver definito profughi centinaia di migliaia di immigrati clandestini che sbarcavano da noi e nulla avevano a che fare con la guerra oggi si abbatte su donne e bambini che dalla guerra scappano davvero e che rischiano di non trovare adeguata solidarietà nelle nostre società operate da un business spacciato per accoglienza la guerra si è abbattuta la guerra si è abbattuta come un macigno di verità sui deliri di certa sinistra non solo per le immagini dei profughi ucraini che come vedete sono distanti anni luce da quelle dei barconi pieni di immigrati irregolari che arrivavano da noi in questi anni ma anche lo voglio dire per la posizione di quelle nazioni che in questi anni sono state insultate minacciate per la loro indisponibilità a redistribuire immigrati clandestini ma che poi quando sono arrivati i profughi veri si sono dimostrate le più accoglienti penso alla Polonia penso all'Ungheria penso a nazioni alle quali molti dovrebbero oggi chiedere scusa e voglio anche dire con chiarezza perché le notizie che arrivano non mi tranquillizzano che non accetteremo che questa crisi umanitaria venga utilizzata dagli schiavisti di sempre per fare altri soldi e altro business anzi diciamo chiaro e forte in particolare oggi che chi sta in Europa e non ha diritto a starci deve essere rimpatriato per fare posto a chi ha diritto a starci e voi vedete la debolezza dell'Unione decisamente non è stata una responsabilità di noi conservatori sono stati il pensiero debole delle elit autoproclamatesi europeiste la congestione incestuosa tra socialisti e popolari un certo egoismo in azioni come la Germania e la Francia a ridurre l'Unione Europea all'irrilevanza noi invece siamo quelli che vogliono risollevarla e il modo più serio per farlo l'abbiamo detto tante volte è quello di rifondare l'Unione Europea sul modello confederale un modello che sia capace di armonizzare l'azione politica economica comune con il ruolo fondamentale degli stati nazionali partendo da un assunto che l'Italia e l'Europa hanno trascurato purtroppo da troppo tempo l'indipendenza l'autosufficienza economica e produttiva anche solo come strategia di riserva non è eludibile è incredibile che un'Europa che nasceva proprio per lavorare insieme sul tema delle energie e delle materie prime ricorderete no? la comunità economica del carbone e dell'acciaio oggi sia così vulnerabile proprio sul piano dell'energia e delle materie prime non è anche questo un fallimento non vi sembra anche questo un fallimento e io credo che sia stato un errore fatale rinunciare a questa indipendenza perché noi abbiamo legato il nostro destino a nazioni e a stati che non brillavano certo né per affidabilità né per democrazia oggi dipendiamo dall'Asia in produzioni strategiche come semiconduttori e microchip nel settore della farmaceutica che tra l'altro era un asset uno storico asset italiano per il settore agricolo alimentare molto altro ancora e così siamo totalmente esposti alle scelte di altri governi e alla fragilità di catene di approvvigionamento che sono sempre più estese e sempre meno controllabili e accade quello che il professor Giulio Tremonti ha detto tante volte il batter d'ali di una farfalla in Asia può causare un uragano nel resto del mondo è esattamente quello che è accaduto ora l'Europa prova a correre ai ripari e però se lo fa adesso vuol dire che lo poteva fare anche prima invece quando noi sommessamente ponevamo questo tema ci dicevano che eravamo autarchici sempre un'altra etichetta con la quale non affrontare problemi che poi puntualmente ti ritrovi addosso e allora la grande sfida per il futuro è tornare padroni del nostro destino però per farlo noi dobbiamo avere il coraggio di ripensare il nostro modello produttivo e di ridisegnare completamente le nostre priorità e qui sarò chiara così rispondo anche ad alcune domande che faceva il sindaco Sala che ringrazio voglio essere chiara sindaco ma noi pensiamo veramente che nell'attuale contesto con la pandemia la guerra i prezzi dell'energia alle stelle la carenza di prodotti primari come il grano che rischia di farci scivolare in una crisi alimentare l'assenza di materie prime che compromette qualsiasi investimento dopo aver preso atto del fatto che dobbiamo liberarci dalla nostra eccessiva dipendenza lo strumento più concreto che abbiamo ovvero il Next Generation U ovvero il PNRR possa essere dedicato ad avere come obiettivo primario quello della transizione verde attenzione che vuol dire vuol dire arrivare se va bene a una diminuzione dello 0,8% delle emissioni puntando su un elettrico i cui componenti fondamentali vengono estratti dalla Cina in Africa con tecniche che devastano l'ambiente e fatti dagli stessi cinesi con le centrali a carbone no scusate scusatemi adesso io cioè vogliamo combattere combattere l'inquinamento legandoci mani e piedi ai paesi più inquinanti al mondo vogliamo superare la nostra dipendenza passando dalla dipendenza verso i petrol stati a quella verso gli elettrostati come dice Federico Rampini vogliamo salvare la nostra economia mettendo limiti che sono sempre meno raggiungibili per i nostri imprenditori e obiettivi che sono sempre più distanti dai nostri interessi nazionali perché anche qui scusatemi ma non era abbastanza aver coperto la Fiat di miliardi e poi averla regalata ai francesi adesso vogliamo anche devastare il settore dell'automotive italiano bandendo le macchine a motore così avremo altri milioni di disoccupati dei quali occuparci però ecco pezzo ma chi l'ha scritta sta strategia intelligentissima? Greta Thunberg eh ma cotta fazzi però perché a me voglio dire non sembra così diciamo così intelligente ecco e allora io lo dico anche per dire che continuiamo a chiedere al Presidente del Consiglio Mario Draghi autorevolissimo Presidente Mario Draghi di prendere questa sua autorevolezza in cantina spolverarla trascinarla con sé in Europa e chiedere con forza la revisione degli obiettivi del PNRR le risorse vanno concentrate sulle conseguenze della crisi non su obiettivi che oggi più che mai sono irraggiungiti e guardate non è che lo dico perché non ci interessa il tema ambientale ovviamente noi siamo patrioti patriota custodisce la terra dei padri intesa come culla di civiltà intesa come territorio da trasmettere ai propri figli e proprio perché amiamo la natura che vogliamo difenderla dalle follie alle quali assistiamo da quando la moda gli interessi e l'ideologia hanno tentato di mettere la natura contro l'uomo noi vogliamo difendere la natura con l'uomo dentro e si può fare si può mettere insieme la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica è quello che stiamo cercando di spiegare e l'Italia ci dobbiamo dire la verità ha pagato già un prezzo un tantino alto alla diciamo cieca ideologia green che tutto blocca tutto impedisce è per colpa di questa roba qui che la patria di Alessandro Volta inventore della batteria scopritore del gas metano oggi rischia di dover fare la luce con le candele è grazie a queste teorie allora anche qui serve un po' di sano ritorno al realismo noi conosciamo tutti l'impatto che avrebbe sulla nostra economia il blocco delle importazioni del gas dalla Russia e se nell'immediato è assolutamente giusto cercare nuove forniture dobbiamo anche dirci che non può essere questa la strategia di medio-lungo periodo la strategia di medio-lungo periodo è secondo noi nel mix energetico sbloccare l'estrazione dei gas nei nostri mari perché siamo lì a fare gara dove lo prendiamo il gas e ci dimentichiamo che noi il gas lo avremo in Italia favorire la transizione verso i biogas la miscelazione gas-idrogeno il geotermico l'Italia vanta la più antica tra le centrali europee solare e oligo che possono e devono essere sviluppati senza devastare l'ambiente e la ricerca io penso soprattutto nel campo della fusione nucleare che potrebbe avere tempi più brevi del previsto siamo pronti a dare il nostro contributo su questi temi ora vedete tutto quello che io ho elencato è stata una specie di detonatore sulla fragilità dell'economia italiana e senza un cambio di passo noi rischiamo di compromettere la tenuta del nostro sistema sociale produttivo e quella di molte famiglie che cosa serve per invertire la rotta serve sbloccare la nazione e serve uno straccio di visione serve smetterla di distribuire i soldi senza un senso e assumersi la responsabilità di scegliere su che cosa bisogna investire perché quello che abbiamo visto in particolare dalla fine dall'inizio della pandemia è ben tollerabile centinaia di migliaia di euro centinaia di miliardi di euro chiedo scusa spesi a pioggia distribuiti senza senso senza un obiettivo inevitabilmente senza risultati apprezzabili da una classe politica che guarda sempre al qui e all'oggi perché? perché sa di non avere un domani allora oggi bisogna avere il coraggio di assumersi di queste responsabilità sbloccare la nazione avere una visione sbloccare la nazione ci riporta ai temi di sempre una giustizia veloce efficiente che va liberata dalle incrostazioni di chi per aver vinto un concorso pensa di potersi sostituire a Dio e di non dover rendere conto del suo operato una burocrazia che semplifichi la vita del cittadino del quale è servitrice e non padrona una classe dirigente che venga costantemente valutata anche questo voglio dire ma non vi sembra strano che in Italia più è bassa la tua mansione più è bassa la tua retribuzione meno diritti hai cioè più sei fragile e meno sei tutelato man mano che sali e che assumi ruoli di responsabilità e che il tuo stipendio aumenta allora diventi ipertutelato e in molti casi inamovibile ma non è questo un sistema che porta alla responsabilizzazione e alla cristallizzazione non dovrebbe essere l'esatto contrario più chi è più esposto e più è tutelato chi ha ruoli di responsabilità va valutato costantemente perché questo la responsabilità richiede e poi un fisco equo ovviamente noi qui sappiamo che l'ideale sarebbe la tassa piatta più bassa possibile la famosa plug tax però se in attesa di abbassare le tasse a tutti a me chiedessero da dove cominceresti beh io non avrei dubbio io comincerei dalle tasse sul lavoro e non è un caso che Fratelli d'Italia abbia messo a punto quella proposta che riassunta in quattro parole dice più assumi meno paghi più è alta l'incidenza di mano d'opera in rapporto affatturato meno devi allo Stato chiaramente è un'iniziativa che si deve prendere in parallelo alla necessità di stimolare gli investimenti delle aziende ricerca e sviluppo in innovazione tecnologica insomma far camminare di pari passo l'aumento dell'occupazione con la competitività e poi serve una formazione che sia all'altezza investire sulla formazione dei giovani sì lo diciamo tutti però a due condizioni la prima che la formazione sia interconnessa con la domanda di lavoro penso soprattutto così mettiamo un po' di carne al fuoco penso soprattutto a un liceo del made in Italy perché io considero folle che mentre noi abbiamo tutto il settore del made in che non trova mano d'opera specializzata abbiamo anche milioni di giovani disoccupati e la seconda condizione è che la scuola italiana deve tornare a garantire il merito perché decenni di dominio post sessantottino sulla nostra scuola hanno prodotto un livellamento verso il basso che ha devastato il merito ma il merito è la benzina di ogni società oggi signori comunico ufficialmente che l'ascensione sociale è out of order rotto fuori uso non c'è ascensione sociale in Italia le tue condizioni dipendono da dove parti eppure questo non si può fare e per questo ringrazio in particolare Luca Ricolfi il professor Luca Ricolfi che di questo proprio ci parlerà in questi giorni perché ha la lucidità di non negare questo problema e poi tra le precondizioni ovviamente c'è una democrazia capace di decidere e qui la risposta è facile la risposta per noi è il presidenzialismo l'elezione dire la riforma dello Stato in senso presidenziale è per noi la madre di tutte le riforme perché è una riforma che garantisce rispetto della scelta popolare che garantisce il vincolo tra rappresentante e rappresentato assicura maggioranze chiare un equilibrio sano tra i poteri dello Stato e soprattutto consente di dire basta con i giochi di palazzo basta con lo schifo dei parlamentari esposti al miglior offerente basta con i teatrini ai quali abbiamo assistito anche in occasione dell'ultima elezione del capo dello Stato la proposta di legge per costituzionale per un sistema semi presidenziale arriverà prima firma Fratelli d'Italia in Parlamento la prossima settimana e allora sapremo e saprete se tutti quelli che durante l'elezione del Quirinale si sono riempiti la bocca con la storia dell'elezione diretta erano sinceri o stavano mentendo e però se anche non passasse io voglio dire che noi non molliamo se non riusciamo adesso allora chiederemo per le prossime elezioni politiche un voto agli italiani anche per fare questa straordinaria riforma perché questa nazione merita una classe politica che faccia quello che dice e che se non lo fa viene mandata a casa e voglio dire non me ne vogliano ma il PD non mi venga a dire che la riforma presidenzialista semipresidenzialismo alla francese non funziona perché rischi di ritrovarti al governo con solo il 20% dei consensi perché mi corre l'obbligo di segnalare che loro ci stanno da tre anni col 18 mi permetto e queste sono le precondizioni dopodiché una volta precostituite le condizioni quali sono le priorità strategiche che abbiamo in mente io penso che siano quelle debbano essere quelle che l'Italia la rendono unica che la rendono inimitabile che la mettono al riparo dalla standardizzazione della competizione globale quelle che sono date dalla sua posizione dalla sua storia dal suo genio vi do qualche spunto primo qual è la cosa più invidiabile che abbiamo e che nonostante gli sforzi rimane la più difficile da imitare quanta avevamo pattuito questa scena no non è la Meloni è il marchio il marchio il made in Italy quel made in Italy di cui c'è ancora tantissima fame nel mondo ed è incredibile che la nazione che vanta il terzo marchio per riconoscibilità al mondo primo marchio nazionale in questi anni invece di investire su questo ha consentito il continuo la continua inesorabile cessione di tutti i suoi marchi più rappresentativi cioè mentre tutti volevano comprare prodotti italiani noi svendevamo marchi italiani è una follia è una follia che nessuna nazione seria accetterebbe e allora io sono convinta noi siamo convinti che al netto delle grandi produzioni strategiche la priorità sulla quale investire debba essere una nuova grande politica industriale orientata al rafforzamento del made in Italy che significa molte cose che non ho il tempo di elencare ma significa per esempio anche estensione del golden power significa per esempio anche rilocalizzazione di quelle industrie che negli anni hanno delocalizzato all'estero perché se vuoi fare e vendere un prodotto italiano e beh lo fai in Italia e lo fai fare da chi in Italia vive e lavora secondo il mare l'Italia è una nazione che ha per tre quarti della sua estensione territoriale che per tre quarti della sua estensione territoriale è affacciata sul mare noi siamo una naturale piattaforma nel Mediterraneo eppure in questi anni ci siamo comportati come se fossimo la Svizzera proprio abbiamo fatto finta che questa roba non ci fosse abbiamo scelto di non investire in questa nostra naturale vocazione è la ragione per la quale da tempo noi proponiamo un ministero del mare cioè un ministero che possa mettere in relazione tutte le attività che dal mare dipendono dalla pesca alla nautica alla portualità al turismo balneare certo e sì continueremo a difendere i nostri balneari continueremo a difenderli perché non accetteremo supinamente che 30.000 aziende italiane vengano espropriate per calmare gli appetiti delle multinazionali straniere e il servilismo del governo italiano lì difenderemo e serve un investimento imponente sui porti che faccia dell'Italia il naturale approdo di tutte le merci che arrivano da sud-est che chiaramente va accompagnato ad adeguate infrastrutture di trasporto interne era la ragione per la quale nel PNRR avevamo proposto la cura del ferro per diciamo utilizzare qualcosa che non è merito nostro ce l'ha dato nostro signore ma a maggior ragione forse bisogna portare rispetto non trovate e allora perché questa scelta per me è importante è importante anche perché se noi facessimo se noi mettessimo in piedi questa strategia ci consentirebbe anche di ricucire la frattura tra nord e sud è perché guardate per quanti sforzi facciano non mi convinceranno mai che l'unica soluzione possibile per lo sviluppo del mezzogiorno d'Italia sia pagare i giovani per stare a casa a guardare la televisione mantenuti dalla paghetta di Stato e voglio dire a quei ragazzi ribellatevi a una politica che vi tratta come se foste degli accattoni pretendete infrastrutture di cittadinanza pretendete di non essere tassati fino a 26 anni se lavorate prendete condizioni di partenza che vi consentano di dimostrare quanto valete e quanto potete dare alla vostra patria perché l'Italia è stata fatta da giovanissimi giovanissimi erano gli eroi del risorgimento non accettate di stare in panchina la potete ancora costruire voi il terzo grande asset lo citavo prima è il merito che è la chiave di volta inutilizzata dello sviluppo italiano questa cultura marxista che per decenni ci ha detto che il merito era nemico dell'uguaglianza ma questa è una menzogna criminale l'uguaglianza è la madre del merito non è il suo becchino l'uguaglianza la devi garantire nel punto di partenza il merito lo devi garantire da lì in poi uno non vale uno signori queste idiozie che hanno consentito a gente che non valeva niente di arrivare al governo della nazione ci hanno devastato ci vogliamo ribellare uno non vale uno uno e uguaglianza come presupposto del merito giuro che non manca tanto uguaglianza come presupposto del merito e voglio ringraziare perché qui ci sono tante rappresentanze uguaglianza come presupposto del merito vuol dire anche porre fine alla discriminazione dei lavoratori autonomi e dei professionisti vittime di un pregiudizio ideologico che considera questi lavoratori diciamo lavoratori di serie B indegni di qualsiasi tutela dalla maternità fino a un sistema di ammortizzatori sociali adeguati passando per un compenso che sia equo ai sacrifici che hai fatto e alla formazione che hai alle spalle con il covid milioni di persone che avevano costruito la loro ricchezza con il loro lavoro e che allo Stato non avevano chiesto niente si sono ritrovate di colpo senza nulla e lo Stato ha ritenuto che non avessero neanche diritto ad avere un sistema di ammortizzazione sociale pari a quella che giustamente avevano i lavoratori dipendenti non noi non noi che da sempre ci battiamo per un sistema unico di ammortizzatori sociali perché pensiamo che un lavoratore sia un lavoratore indipendentemente dal tipo di mansione di lavoro che svolge e anche diciamoci la verità indipendentemente dal fatto che passi o non passi i soldi alla CGL un lavoratore è un lavoratore e poi bisogna sanare la frattura tra generazioni perché il peso delle scarse opportunità per i giovani anche questo lo dobbiamo dire e beh si ripercuote sugli anziani i nonni d'Italia oggi destinano molto spesso buona parte delle loro pensioni inadeguate al sostentamento di figli e nipoti e mentre questa società senza valori tratta chiunque sia inabile alla produzione come uno scarto per dirla come Papa Francesco invece i nostri nonni si sacrificano per i nostri giovani e io voglio dire loro grazie e voglio dire loro che ci rendiamo conto delle loro continue privazioni talmente tanto che nell'Italia che abbiamo in mente noi detasseremo le risorse che questi anziani dedicano al sostentamento di loro figli e nipoti perché se i nonni fanno quello che lo Stato italiano non è capace di fare beh allora lo Stato deve almeno dire grazie e come si vede anche qui è la famiglia la prima pietra della nostra società è il luogo principe della solidarietà è il fulcro di molte nostre aziende il principale ammortizzatore sociale che abbiamo è la garanzia della nostra stessa esistenza perché senza la famiglia non ci sono figli senza figli non c'è più niente i bambini e anche qui dirò con chiarezza che però i bambini non si comprano non sono non sono prodotti da banco di cui puoi scegliere colori e caratteristiche da scontare durante il Black Friday magari da rispedire indietro al mittente se dovessi cambiare idea o se dovessi considerare il prodotto difettoso no eppure è esattamente quello che accade ogni giorno grazie a quella pratica mostruosa che qualcuno ci vende come modernità dell'utero in affitto uomini ricchi uomini ricchi che pagano donne povere per portare in grembo un bambino che verrà strappato loro appena nato e che non avrà mai una madre non è un simbolo di modernità ma di una società infame che confonde i desideri con i diritti che sostituisce Dio con il denaro e che si occupa sempre del diritto del più forte e non come dovrebbe fare del diritto del più debole la proposta di legge per rendere l'utero in affitto reato perseguibile in Italia anche se commesso all'estero arriverà anche essa la proposta di legge di Fratelli d'Italia arriverà anche essa tra qualche giorno e io davvero spero che nel Parlamento italiano ci sia ancora una maggioranza di persone che hanno una coscienza per approvare questa norma di civiltà e allora vedete la famiglia in questo tempo come ogni presidio di identità è sotto attacco perché l'ideologia mondialista ha bisogno di privarci delle nostre radici trasformarci tutti consumatori dello stesso prodotto senza diritti senza coscienza e però attenzione nella famiglia il principale nemico è diventato l'architrave qual è l'architrave della famiglia l'architrave della famiglia sono le donne in quanto madri e cerco di spiegarmi se andate oltre gli slogan voi vi renderete conto che il vero obiettivo dell'ideologia gender in realtà non è quello tanto decantato della lotta alle discriminazioni che figuriamoci e a ben guardare non è neanche quello del superamento della differenza maschio-femmina il vero obiettivo non dichiarato è la scomparsa della donna in quanto madre lo ha spiegato perché questo è un concetto complesso lo ha spiegato con una straordinaria lucidità e una straordinaria potenza Eugenia Roccella a un convegno al quale partecipavo e mi ha aperto la mente su qualcosa che io non avevo perfettamente focalizzato pensateci bene l'individuo indifferenziato al quale si tende con le teorie con le teorie gender se ci guardate bene non è così indifferenziato è maschio l'uomo oggi può essere tutto può essere madre padre in una gamma ampissima che va dal maschile al femminile e contemporaneamente le parole più censurate dal politicamente corretto sono donna e madre è l'identità femminile a essere sotto assedio perché? perché si vuole distruggere la straordinaria poforza simbolica della maternità noi è nel grembo materno che noi impariamo a essere due è nel rapporto tra madre e figlio che si fa esperienza della cura dell'accettazione delle imperfezioni dell'amore gratuito in una parola dell'umanità stessa ecco perché quell'architrave è un problema ed ecco perché invece noi difenderemo in questa nuova frontiera dello scontro l'identità di donna e l'identità di madre e anzi crediamo che questo sia il tempo delle donne dentro e fuori dalle mura domestiche perché Dio sa se questa nazione non avrebbe bisogno della dedizione della velocità della concretezza dell'abnegazione con le quali le donne e le madri crescono i loro figli insomma e concludo davvero vado alla conclusione c'è veramente molto da fare noi veniamo da un periodo lungo di sofferenza ne stiamo attraversando un altro che non sarà breve probabilmente e però vedete le crisi come sempre possono anche essere un'occasione noi abbiamo davanti a noi l'esempio di questo popolo fiero che ogni giorno ci dimostra cosa sia l'amore per la sua terra per la libertà per la patria ora vedete io non so dirvi sinceramente come reagiremmo noi a un'invasione però so che è più difficile essere una grande nazione in guerra se non si è capaci di dimostrare di essere una grande nazione in pace e una grande nazione di che cosa ha bisogno una grande nazione ha bisogno di un popolo che creda in lei che la ami che sia capace di superare gli egoismi il cinismo di questo tempo per riscoprire l'etica della responsabilità il senso del dovere la solitarietà tra le persone l'amore per la cosa pubblica una grande nazione ha bisogno anche di una classe politica degna la politica che liscia il pele e basta che non dice la verità che non ha il coraggio di indicare una visione non è buona politica la politica che declama diritti senza mai accompagnarli a doveri non è buona politica la politica disposta a cambiare idea bandiera maggioranza governo per salvare se stessa non è buona politica e noi noi non siamo di questa pasta noi abbiamo scelto qualche anno fa di rinunciare alle rendite di posizione di respingere le sirene del potere per il potere lo abbiamo fatto per rincorrere un sogno contro tutto e contro tutti ridare una casa alla destra italiana poi aprirla ai tanti che con noi condividevano le stesse idee costruire con loro il grande partito dei conservatori italiani dare orgoglio e diritto di cittadinanza a tutti quelli che non hanno mai creduto alla favoletta che per essere presentabile devi andare a braccetto con la sinistra orgoglio oggi con orgoglio noi possiamo dire che ci siamo riusciti con tanta fatica tanta pazienza tanti sacrifici con la nostra incrollabile coerenza è per questo che continuiamo a salire e però anche su questo voglio essere chiara più saliremo e più la nostra responsabilità sarà quella di tenere i piedi ben piantati a terra scrive proprio Gustav Tibbon molti credono di salire ed evaporano nel vuoto non chi come l'alpinista sale con tutto il suo peso umano conservando l'argilla ai piedi e il profumo della montagna nei polmoni nell'altitudine l'ossigeno è rare fatto può darti alla testa può farti smarrire però per noi non sarà così perché la nostra preparazione come quella di ogni alpinista è stata lunga meditata sofferta allora più saliremo e più porteremo con noi ciò da cui proveniamo più saranno i sogni che avremo e più sarà nostra responsabilità ancorarli alla realtà più avanzeremo e più tenderemo la mano a chi è rimasto indietro e soprattutto si sappia che è l'unica ragione per la quale vogliamo arrivare in vetta e che sappiamo che da lì possiamo guardare più lontano grazie 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 grazie